Meno ore di lavoro, taglia gli stipendi e igiene degli ospedali a rischio. Ancora nessuna soluzione sulla vertenza GESAP che riguarda 100 addetti alle pulizie negli ospedali di Ariano, Bisaccia e Sant'Angelo dei Lombardi. Le ore di lavoro sono state ridotte. Dal 1 giugno si è passati da 3 ore e mezza a 3. Al Frangipane le organizzazioni sindacali hanno convocato un'assemblea per avere chiarimenti dall'ASL. Più di un mese fa la protesta ad Avellino, ma da allora nessuna novità. L'apparato interno dell'azienda sanitaria al momento non ha formalizzato risposte sulla vertenza. Ormai il taglio di mezz'ora di lavoro su 3 ore va avanti da oltre un mese e mezzo. C'era stato un impegno, per la verità questo impegno da parte dell'ASL ancora non si concretizza. Di conseguenza abbiamo due disagi che sono ormai acclarati. Il primo è che i lavoratori perdono lavoro e retribuzione. Il secondo, che è ancora più delicato, è che le condizioni di pulizia dell'ospedale non sono sempre pulite, ma si può pulire ancora in modo più approfondito e in modo più efficiente. Il commissario straordinario Mario Ferrante non ha preso parte all'assemblea, ma ha fatto sapere che appena avrà certezze sulla questione è pronto ad incontrare le lavoratrici ad Ariano. Proclamato intanto lo stato di agitazione, il confronto si allargerà anche agli ospedali di Sant'Angelo e Bisaccia. Noi chiediamo al commissario di perfezionare gli atti in modo tale che la qualità dei servizi all'interno di questo ospedale siano all'altezza di una situazione. Noi dobbiamo tendere sempre a migliorare, ma è a peggiorare, perché i servizi sono fondamentali, denotano la qualità di una struttura e l'ospedale, che ha già 10.000 difficoltà, non può subire un altro attacco rispetto a questo che è l'elemento essenziale. Per caso si tratta di una situazione simile a quella della clinica Malzoni. Sì, c'è una situazione ormai dove i costi della crisi si scaricano sui dipendenti, non solo in efficienza. Credo che se non invertiamo questa rotta noi avremo una società sempre più cannibalizzata e invece dovremmo affrontare in modo strutturale. Ci sono altre perdite sostanziali, ci sono condizioni che nessuno vuole mettere in discussione, perché è più facile tagliarsi i dipendenti che scontrarsi all'interno. Credo che una sana gestione debba puntare a invertire questo ordine di fattori.